Ciao a tutti, oggi terzo episodio della serie in cui andiamo ad analizzare i portafogli dei più grandi investitori della storia, oggi forse andiamo a vedere quello del più grande nonché di uno dei più ricchi imprenditori della storia, ovvero Warren Buffett il proprietario e fondatore di uno dei più grandi hedge fund al mondo, ovvero la Berkshire Hathaway giusto per farvi capire, questo è il suo net worth, ovvero il suo patrimonio e questo miei cari è semplicemente il grafico del suo patrimonio nei vari anni pensate che il primo miliardo lo ha raggiunto praticamente a 53 anni e adesso sostanzialmente ha 107 volte il patrimonio che aveva praticamente 40 anni fa questo anche per farvi capire quanto è stato forte come investitore ma andiamo a vedere la performance che ha avuto negli ultimi anni per farlo utilizzo un sito che si chiama Stock Circle che non mi sponsorizza però è quello che personalmente preferisco e questa sostanzialmente è la sua performance degli ultimi anni come potete vedere gli ultimi 3 anni ha avuto una performance del 40% e vi assicuro che avere performance del genere con un patrimonio così grande è veramente difficile questo è dovuto principalmente al fatto che quando voi avete da investire tanti soldi e non potete farlo ovviamente in micro capo perché se Warren Buffett vuole avere un incremento significativo sul suo portafoglio vuol dire che deve investire praticamente se investe supponiamo l'1% del suo patrimonio vuol dire che deve investire un miliardo ok? ma se fa il 100% su un suo investimento vuol dire che fa un altro miliardo che sostanzialmente aggiunge un 1% al suo patrimonio quindi il cambiamento è non significativo abbastanza questo vuol dire che se vuole fare un investimento deve investire almeno 10-15 miliardi ma aziende così grandi non è che ce ne sono tantissime al mondo quindi pensate quante poche opportunità ha Warren per poterci investire ed è per questo che quando investe Warren sostanzialmente investe sempre tanti miliardi e quindi sotto quel lato lì noi piccoli investitori in termini di performance abbiamo un grosso vantaggio comunque considerate che negli ultimi 5 anni ha avuto una performance del 73% e negli ultimi 10% del 140% ditemi voi come vi sembra? guardate anche come è riuscito ad avere una performance poco volatile anche nell'ultimo anno quando sostanzialmente il portafoglio medio penso abbia perso tra il 15% e il 25% il suo portafoglio ha perso praticamente il 6% è sempre un fenomeno mi dispiace dirlo ma è veramente un fenomeno incredibile per prima cosa vi devo dire che purtroppo per questo episodio qua non posso andare a valutare le aziende perché per chi non lo sapesse ha valuto sempre le prime 5 aziende tramite il mio algoritmo perché? perché lo sto aggiornando e quindi è sotto manutenzione per alcuni giorni purtroppo forse non riesco a utilizzarlo adesso vedo come gestire i prossimi video però cerco di ridurre i tempi di manutenzione e ve lo riporto il prima possibile una cosa che mi fa sempre tanto ridere è il fatto che la gente dica che Warren abbia tra 10 e 15 azioni nel suo portafoglio ma in realtà la verità è che ha 48 posizioni è ovvio che non è super diversificato perché se andate a vedere la sua posizione più grande Apple occupa il 40% del suo portafoglio ma questo è principalmente dovuto al fatto che come potete vedere qua Apple ha un prezzo medio di 37 di acquisto il prezzo che ha adesso l'azienda è di 154 quindi ha fatto un per 3 questo cosa vuol dire? vuol dire potenzialmente che la sua posizione originale era del 13, 14, 15% quindi non dite che Warren non è diversificato perché la diversificazione viene secondo me calcolata sul quanto investito non sul portafoglio attuale se io ho 10 posizioni attribuisco il 10% ad ognuna delle stesse e una mi fa un per 10 è ovvio che avrò il 50% del portafoglio su una singola azienda però quello che ho investito io è il 10% Apple è l'azienda più grande altre aziende che possiede Warren sono Bank of America tra l'altro queste due aziende sono all'interno anche del mio portafoglio poi a Chevron perché per chi non lo sapesse Warren è stato lungimirante anche sotto lato petrolifero perché negli ultimi due anni quando tutti scaricavano l'azienda petrolifero lui ha iniziato a incrementare e incrementare e incrementare infatti ha fatto dei game impressionanti per il periodo di investimento pensate che ha investito in Chevron e Occidental Petroleum dove ha guadagnato veramente tanti miliardi di dollari come non menzionare gli investimenti in Coca-Cola e American Express che ce l'ha da veramente tantissimi anni e poi qua ci sono altre aziende però sostanzialmente raggiungono percentuali che secondo me sono poco significative sul suo portafoglio qua abbiamo Kraft Heinz dove tra l'altro perde anche veramente tanti soldi perché è stato forse uno dei peggiori suoi investimenti poi occidentale Petroleum come vi dicevo prima Moody's Taiwan Semiconductor che tra l'altro se noi andiamo a vedere gli ultimi trade che ha fatto è una delle posizioni nella quale ha incrementato più soldi oddio incrementato è il termine sbagliato infatti in una nuova posizione per chi non lo sapesse Taiwan Semiconductor è nettamente il più grande produttore di semiconduttori al mondo a sede a Taiwan e questo ci fa anche capire il fatto che quando tutti vendevano azioni cinesi barra asiatiche anche in ottica di un possibile conflitto Cina-Taiwan Warren ci investiva sopra e se voi andate a vedere la performance che ha avuto se considerate che la pesa nel Q3 2022 in praticamente manco un anno ha già avuto una performance del 15-20% considerando anche il dividendo poi ha ridotto la posizione in US Bank Corp che è una banca ha incrementato in Chevron ha diminuito l'acquisto di Activision Blizzard che per chi non se lo ricordasse aveva aperto appunto una posizione per fare un arbitraggio perché Activision Blizzard che tra l'altro è anche la produttrice di alcuni giochi come Call of Duty, Overwatch e Crash Bandicoot doveva essere acquisita da Microsoft che aveva presentato un'offerta e si era presentato una possibilità di arbitraggio infatti il prezzo delle azioni era significativamente più basso rispetto all'offerta di Microsoft solo che attualmente gli enti regolatori non hanno dato il via libera per concludere l'operazione e quindi siamo in attesa di vedere cosa succederà visto che non posso utilizzare il mio algoritmo perché è monotenzione vi vado a far vedere due siti che vi ho già presentato in un altro video che secondo me sono molto validi e andiamo a vedere un po' cosa si potrebbe guadagnare sugli eventuali investimenti che ha fatto Warren infatti per curiosità andiamo a vedere cosa ci dicono su Taiwan Simic Conductor come potete vedere il discounted cash flow fornitoci da Alpha Spread presenta una sottolotazione del titolo all'incirca di un 7% ovviamente calcolando all'incirca un discount rate del 10% quindi se l'analisi è fatta correttamente ci tra molte virgolette garantirebbe una performance del 10% anno su un titolo che rilascia anche un dividendo abbastanza elevato se invece la valutazione la facciamo guardando i multipli dei competitor e paragonandoli all'azienda la sottolotazione aumenta all'incirca al 26% considerate che attualmente DSM anche dovuto al fatto che c'è un rischio paese ha un PE di 14 contro una mediana dell'industria del 26% ha un price to book di 4.9 contro una mediana di 7 quindi nettamente più bassa quindi il sito ci dà una sottolotazione generale di all'incirca un 18% per quanto riguarda Chevron che invece è la seconda tenda che ha incrementato andiamo a vedere un attimo cosa ci dice il sito per quanto riguarda Chevron penso la conoscete tutti ma per chi non lo sapesse è una delle più grandi compagnie petrolifere americane il sito ci dà una sottolotazione all'incirca di un 14% facendo un discounted cash flow e utilizzando un discount rate del quasi 9% quindi anche qua possiamo ottenere dei buoni ritorni mentre per quanto riguarda invece la relative valuation quindi utilizzando i multipli del settore e paragonandoli ai suoi otteniamo una sopravalutazione all'incirca di un 7% in linea di massima quindi otteniamo una sottolotazione del 4% l'ultima azienda che andrei a guardare su Alpha Spread è Apple perché per chi non lo sapesse non posso mostrarlo sul mio algoritmo però Apple è un'azienda che io personalmente ritengo abbastanza tanto sopravalutata ai prezzi attuali e voglio vedere se Alpha Spread mi dà ragione o no andiamo a controllare per curiosità come potete vedere anche Alpha Spread prevede una sopravalutazione all'incirca di un 14% e questo è principalmente dovuto al fatto che attualmente Apple ha multipli abbastanza elevati in relazione alla crescita che ha pensate che ha un P addirittura di 25% e un price of free cash flow sempre di 25% ciò vuol dire che con il free cash flow annuale ci vorrebbero 25 anni per rientrare dell'investimento capite che è troppo elevato soprattutto per un'azienda che cresce relativamente così poco infatti se andiamo a fare un semplice discounted cash flow la sopravalutazione è molto elevata infatti è addirittura del 32% ed è per questo che come dissi in uno dei video precedenti non penso che Warren riesca a superare le S&P 500 nei prossimi 4-5 anni semplicemente perché il suo investimento in Apple che attualmente occupa il 40% della Berkshire non dovrebbe appunto battere il benchmark a meno che quindi Warren non vende la supposizione o parte della supposizione di Apple e investe in qualcos'altro non credo che sovraperformi il mercato detto questo fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti ciao a tutti